Allora, siamo un po' in ritardo, ma stanno arrivando e siamo quasi pronti per salpare. Purtroppo questo lieve ritardo forse ci farà perdere la luce migliore della mattina. Faremo lo stesso. Ah, tra parentesi, Paolo mi ha avvertito che ci sono i gabbiani molto incavolati con i droni perché hanno appena filiato, hanno appena creato i nidi e quindi bisogna stare molto attenti a volare perché se voli più in alto dei tetti ti arrabbiano. Vale, che diventi famoso! Stiamo uscendo, stiamo uscendo dal porto in questo momento. Abbiamo alzato anche il drone e vediamo se riusciamo a fare una qualche ripresa. Guarda dove siamo. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.